Empoli e Pescara finisce 1-1 a uscire vittoriosi dal Castellani, però sono sempre tifosi biancazzurri con la loro grandissima passione. Cosa non deve mai mancare in una trasferta? Prima di tutto lo spirito, lo spirito, tutta la cosa da andare con tanta voglia di vincere, dobbiamo essere positivi quando andiamo a vedere una partita. Sì, sì, sicuramente. Guarda, Nella è perfetta, è un'ottima organizzatrice, non possiamo dire nulla, però c'è il difetto di arrivare sempre a ritardo. Ma quanto di ritardo? Un quarto d'ora? Un quarto d'ora, sì, anche 20 minuti qualche volta, però adesso noi ormai siamo abituate, per cui attendiamo pazientemente il suo arrivo. Quanto è bello andare in trasferta con la mamma. Puoi dire le parolacce? No, no. No, no, non si possono dire, neanche agli avversari. Beh, sì, quello sì. Quello sì, quello sì. Come ha fatto a appassionare il suo bambino a Pescara? Beh, da P... vabbè, a Pria è una mia passione da sempre, e poi lui gioca con la Pescara a calcio, quindi diciamo... è venuta naturale la cosa. La trasferta più bella è stata... Eh, no, non è stata Trapani. Forse è stata... Novara sotto il diluvio universale, oppure Perugia, quando tutti ci davano per spacciati... Il 4 a 0 di Massimo Ordo? No, no. È stato quello quando stavamo... che ha segnato Politano, mi sembra, su Rigore e Bjarnason. E là ci davano tutti per finiti, invece poi alla fine siamo arrivati e siamo andati in finale, però poi è andata... è andata male. Anche qui mamma e figlia in trasferta? Sì, sì. Perché portare il proprio bambino in trasferta? Perché è bello. Siamo appassionati, veramente, tutta la famiglia. Sì, sì. E come andare in trasferta con la mamma? È bello. È bello. Perché è bello? È bello. È bello. Ti diverti? Trasferta numero... sei giovanissimo, trasferta numero? Sei. Trasferta in amicizia? Tra cugini. Tra cugini. È come andare in trasferta? Chi porta le birre? I panini te ne copi tu? No, tutto io. Tutto tu porti? Lui scrocca soltanto. Lui scrocca soltanto. Almeno gli hai regalato il biglietto, spero. No. Speriamo, vediamo, devo ancora dare i soldi. Quante trasferte avete fatto insieme? Io questa è la seconda. No, questa è la prima insieme. Insieme, è la prima. È la seconda. Ti è andata bene, insomma? È scroccato alla grande. Lo ci ho guadagnato. Perché seguire il pescara in trasferta? Sempre. Perché seguire il pescara? Sempre. Perché? Non piace. Qui invece trasferta in dolce compagnia? Sì, sì. Sì, trasferta in dolce compagnia è la prima insieme. Per me è... La prima di tante? Eh, sì. Spera di sì, si spera di farle nella massima categoria. Perché andare con il proprio ragazzo in trasferta? Ti ha costretto? No, 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 no. Lui mi ha appassionato al pescara, ma perché è una cosa in più da condividere e comunque è sempre bello di fare la propria squadra, della propria città. E come ti ha fatto appassionare? Innanzitutto, vabbè, spiegandomi un po' le dinamiche del gioco, facendomi avvicinare innanzitutto al calcio e poi, vabbè, al pescara e portandomi allo stadio. Sfatiamo un mito comune, è fuori gioco quando? L'arbitro fisca. Quanto è difficile per una donna andare in trasferta? Ma per una donna intanto è difficile amare il calcio, nel senso che tutti condividono che una donna aveva il calcio e quindi seguo. La trasferta, sì, la trasferta in effetti è difficile perché bisogna conciliare tante cose, anche personali, quindi è complicato. La tua trasferta numero? Eh, penso 10. Ah, 10. 10-12esimo anno a fare. Qui? Come si vive una trasferta? Col cuore. Col cuore. E basta. E basta. Con gli amici, in amicizia. E con la voglia di rifare. E' più bello andare in trasferta o andare all'Adriatico? Assolutamente in trasferta. E si sta in compagnia e si vive di più il senso di stadio, mentre allo stadio stai con i tuoi amici e più uno. Meno movimento. Anche tu la pensi così? Ma l'Adriatico ha qualcosa in più secondo me, perché dove praticamente sono stato? Casa Nostra. Casa Nostra. Dove vai di solito all'Adriatico? Curva? Distinti? Sempre curva. Sempre curva. Il coro preferito è? Eh... Salvatore. Non ci sei da. Non si può dire, dai. Non si può dire. Stringiti insieme a noi, canta più forte che puoi. Senti che bello è vivere insieme a te. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Stringiti insieme a noi, canta più forte che puoi. Senti che bello è vivere insieme a te. La 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 la. La 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 la. Stringiti insieme a noi, canta più forte che puoi. La 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 la. La 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 la.